Vi porto questo video perchè veramente me lo state chiedendo in moltissimi e se vedete sempre la stessa maglia nei video è perchè sto registrando tutti i video in... cioè uno dietro l'altro, capito? Quindi iniziamo Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale per un nuovo video o comunque un nuovo What's on my phone E questa volta il protagonista è il mio OnePlus 6 Uno smartphone che ovviamente come tutti sapete mi sta piacendo tantissimo e che veramente vi straconsiglio Magari se siete interessati vi lascio il link per l'acquisto in descrizione Arriverà un video appunto dedicato a quest'ultimo Vedremo un po' anche quelle che sono le prestazioni, vedremo un po' anche quelle che sono le qualità fotografiche Ma oggi siamo qui per parlare appunto delle applicazioni che ho scaricato all'interno di questo smartphone Quindi direi subito di iniziare e di trasferirci sulla nostra postazione da What's on my phone Quindi pollice in su, iscrivete al canale se ancora non l'avete fatto E ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video del genere, aggiornamenti e nulla Grazie mille per tutto il supporto, iniziamo subito Questa volta ho fatto l'interno leggermente più corta Bravo, e poi l'allungo così Ottimo Allora ragazzi siamo nella nostra postazione da What's on my phone Quindi partiamo subito con analizzare le applicazioni Ma prima di partire però vi voglio dire che se appunto volete capire come ho personalizzato il mio OnePlus 6 Beh vi lascio nelle, io comunque trovate sul canale la personalizzazione appunto dedicata a questo smartphone E vi parlo anche di lei, fantastica Ma comunque partiamo subito quindi swipe up e andiamo a vedere un po' tutte le applicazioni che ho scaricato su questo dispositivo Che veramente ragazzi è fantastico Ma comunque parliamo un po' delle applicazioni e partiamo appunto dalla prima o meglio 70Track, 70Track è un'applicazione che io vi straconsiglio per appunto controllare l'arrivo del vostro pacco, dei vostri acquisti O comunque di tracciare tutto il percorso È un'applicazione che veramente funziona molto bene, semplice e anche graficamente a me piace Ci sono veramente molti corrieri quindi secondo me è un'applicazione molto interessante da avere assolutamente sul vostro dispositivo E ve la lascio comunque sempre in descrizione per quanto riguarda il download La seconda applicazione, l'abbiamo parlata già in un video dedicato appunto a lui o meglio l'Amazfit Beep E parlo di Amazfit Beep Watch Face, una cosa del genere Ma comunque è un'applicazione principalmente che serve per personalizzare la Watch Faces dell'Amazfit Beep Molto interessante, funziona molto bene, è semplicissimo anche in questo caso da utilizzare Potete metterla nei preferiti e poi scaricarla e andare ad inserire sul vostro smartwatch tramite l'applicazione appunto Amazfit Dovrebbe chiamarsi Amazfit, vabbè dopo l'andiamo a vedere adesso, non ricordo precisamente il nome La terza applicazione ovviamente è Amazon Music Visto che io ho comunque Amazon Prime, la utilizzo quando magari, non lo so, sinceramente non è che la utilizzo tantissimo Però comunque è un'applicazione che secondo me è ottima Se avete Amazon Prime scaricatela e sfruttate comunque tutto quello che vado a offrire Amazon Vabbè questo è Amazon, io sono 24 ore su 24 quasi a cercare e magari a scrivere qualche recensione Voglio tornare principalmente a scrivere qualche recensione qui sul mio account Magari seguitemi e date un'occhiata magari se volete delle recensioni testuali La quinta applicazione è Asphalt 9 che sto qui ad aprirvi principalmente per farvi vedere appunto la velocità di questo dispositivo Che come state vedendo è veramente veramente molto molto veloce È un gioco che si fa giocare, comunque che si lascia giocare veramente benissimo su questo dispositivo Tolgo la voce perché sennò veramente è una cosa esagerata Però vi posso dire che veramente funziona molto molto bene Fluido come gioco, magari ci torneremo nella recensione o comunque nella chiacchierata Alla Snuggle diciamo questa cosa Per quanto riguarda OnePlus 6 Però comunque vi posso assicurare che veramente è uno smartphone performante anche nell'ambito gaming Vi voglio far vedere un po' di clip anche per vedere un pochettino di grafica Vediamo un pochettino E fatemi sapere ovviamente anche cosa ne pensate di questa postazione da What's on my phone Qui sotto nei commenti E come vedete ragazzi è veramente fantastico giocare a questo gioco L'ho scaricato da poco sono sincero Però veramente ci sto, non dico nerdando Però mi piace Mi piace, è un gioco che ti fa perdere un bel po' di tempo Ma comunque torniamo al nostro What's on my phone Perché non è un gameplay Abbiamo ovviamente, vabbè, calcolatrice, calendario Non sto qui a farvelo vedere Vabbè, le solite applicazioni dei social Evernote Evernote è un'applicazione che io vi straconsiglio sempre Adesso non ho praticamente nulla scritto Perché ho cancellato da poco Perché voglio incominciare a sincronizzare di nuovo tutto da capo Visto che avevo roba addirittura abbastanza vecchia Ma comunque è un'applicazione che generalmente vi permette di avere tutto sincronizzato Tra smartphone e pc Con la versione comunque free Potete scaricare O comunque potete avere massimo Due dispositivi collegati allo stesso account Poi ovviamente se pagate potete avere quanti dispositivi volete Però comunque in generale per me va benissimo Due bastano e avanzano Funziona veramente molto bene È un'applicazione che io vi straconsiglio Se volete appunto sincronizzare Magari io lo utilizzo magari in ambito universitario Scrivo appunti o un termine Una cosa che il professore ha detto E poi lo trovo automaticamente condiviso sul mio pc Ed è una cosa veramente molto molto comoda Non solo in questo caso Però veramente veramente straconsigliata come applicazione Anche perché è gratuita Quindi ve la lascio sempre in descrizione Andata avanti abbiamo Galaxy Wear Che permette appunto di collegare le mie IconX al OnePlus 6 E poi ultimamente ho scaricato Gearbest Gearbest sto controllando un pochettino anche qualche offerta O comunque qualche gadgettino qui sopra E vi dico già che quello che state vedendo è un grandissimo grandissimo spoiler E da qui già avete capito veramente tantissime cose sicuramente Quindi aspettatevi veramente video molto molto interessanti Poi vabbè gestione file Gestione delle pagine Mettere in generale di gestire un po' tutte le pagine facebook che ho Dico tutto perché alla fine non gestisco soltanto la mia Come tutti sapete Lavoro anche con Telefonia Granata Magari se non ci seguite anche sul canale youtube Andate lì perché ci sono video molto interessanti Soprattutto per quanto riguarda le recensioni E come avete visto veramente ragazzi Si è aperto in maniera quasi istantanea Andando avanti Vabbè gmail Google Pay Che non so perché non riesco a collegare la mia carta hype Sinceramente non lo so E poi Yuji Yuji è un'applicazione fantastica Ve l'ho consigliata anche in un video appunto Dedicato alla top app E veramente ragazzi è un'applicazione che vi permette di realizzare Delle foto molto molto interessanti Con uno stile un po' retro E veramente ragazzi a me piacciono moltissimo C'è un po' di pubblicità Però veramente ragazzi è un'applicazione che io vi straconsiglio Anche perché è gratuita E quindi trovate sempre il link in descrizione Andando avanti vediamo un po' Vabbè c'è hype L'applicazione che ho scaricato appunto perché ho effettuato appunto l'account Cioè ho creato l'account e quindi ho avuto la mia carta Che secondo me è molto interessante come cosa Andando avanti ragazzi abbiamo un lettore musicale E questa applicazione ve la lascio ovviamente sempre in descrizione Ma spesso su Instagram mi chiedete appunto applicazioni del genere E questa secondo me è la migliore Funziona veramente veramente molto bene Ha un'ottima grafica A me piace Ha un po' di problema per quanto riguarda le pubblicità Però non danno fastidio Quindi veramente ragazzi Ve la consiglio Magari dategli un'occhiata Poi la disinstallate Anche perché è leggerissima Ovviamente Lightroom Che mi permette di modificare tutte le foto Anche perché le foto principalmente le modifico Qui sullo smartphone Perché sono sempre in giro Soprattutto adesso che inizia dall'università Poi vabbè McDonald's Perché principalmente quando andiamo lì Ci sono qualche sconto Mettono di solito Però non è che la utilizzo più di tanto Vabbè sapete tutti come funziona Vabbè messaggi Messenger Che veramente odio ragazzi Io Facebook Messenger li odio Preferisco 100.000 volte Instagram Poi ah eccola qui Mi Fit Questa è l'applicazione ovviamente dedicata Alla Mezfitbit Vabbè l'ho detto veramente velocissimo Non si è capito quasi niente Ma comunque è l'applicazione che vi mostrerò meglio Nella recensione Comunque devo dire la verità che funziona bene Vi permette appunto come detto in precedenza Di modificare la watch face Dell'orologio comunque dello smartwatch Ovviamente abbiamo un month Che è l'applicazione che io preferisco in assoluto Per quanto riguarda i calendari Ce ne sono veramente tantissimi Potete personalizzare Potete fare quello che volete Ultimamente è stato aggiornato E ce ne sono veramente di belli E veramente ragazzi Questa è un'applicazione che io vi straconsiglio Cioè guardate qua Guardate che belli sono Come volete personalizzare il vostro smartphone Così mettete il calendario Veramente fantastica Andando avanti abbiamo Move It Che mi permette generalmente di Gessimela un po' per quanto riguarda i trasporti Eccetera 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 Funziona bene Interessante Scaricatela Se siete appunto tipi che vanno molto nel treno Principalmente Io le odio però Devo utilizzarlo Poi abbiamo Netflix Ovviamente E ultimamente ragazzi Stanno mettendo delle serie Sono tornate di nuovo Le serie di Avengers E quindi Marvel Veramente fantastiche E nulla Io sono drogato Di Ometeor Mother Quindi non posso non avere Netflix Vabbè poi abbiamo Note Nuova Launcher Ovviamente Applicazioni standard Di One Plus Poi abbiamo Paypal Vabbè un'applicazione che conoscete Praticamente tutti Quindi non sto qui a farvela vedere Vabbè Pineapple Icon Pack E l'Icon Pack che sto utilizzando Per questa personalizzazione Vabbè Play Film Eccetera 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 Non ci interessa Play Store Post e Pay Vabbè sapete tutti a cosa serve Amazon Prime Video Un'applicazione Vabbè che conoscete tutti Se avete Amazon Prime Sfruttatela Perché veramente ci sono Seri o comunque film Con un'ottima qualità E che io appunto Vi straconsiglio Voglio vedere Questa qui Sono interessato Comunque mi incuriosisce Ma vabbè Torniamo a noi Poi cosa abbiamo più Abbiamo ovviamente Shazam Snapseed E ultimamente ragazzi Come state vedendo Non ho più Visco Perché sinceramente Non lo trovo più utile Infatti utilizzo soltanto Snapseed E Lightroom Vabbè poi Spotify Chi non la conosce E Squid Squid è un'applicazione Che ho scaricato da poco Ma che veramente Veramente mi sta Piacendo moltissimo Mi permette di stare Sempre aggiornato Quindi hashtag Bisogna essere Aggiornati E nulla È interessante Funziona bene E penso che Anche in questo caso Molti di voi Già la conosceranno Andando avanti Cosa abbiamo più Vabbè Telegram Seguitemi anche su Telegram Link in descrizione Google traduttore Perché io sono una frana In inglese Twitter Unfold Ve l'ho mostrata Già in una Top up Su questo smartphone Ancora non l'ho utilizzata Tantissimo Lo ammetto Però è interessante Ragazzi Io voglio averla Sullo smartphone Perché è un'applicazione Che mi sta piacendo Wallet Non sto qui ad aprirla Perché appunto Ci sono informazioni Personali Però ve la straconsiglio Per gestire un po' Le entrate Le uscite Budget Veramente l'applicazione Che secondo me Funziona molto molto bene Straconsigliata Link in descrizione Vabbè Whatsapp Youtube Youtube studio Che mi permette un po' Di controllare Quello che è Il canale Youtube Stiamo andando Veramente benissimo Quindi grazie mille Per tutto il supporto E poi abbiamo Zalando Vabbè la conoscete Praticamente tutti È l'applicazione Che ho scaricato Praticamente ieri Sono sincero E così Giusto per vedere Un po' Di roba Ma Nulla di Particolarmente Interessante E nulla ragazzi Queste sono tutte Le applicazioni Che ho sul mio OnePlus 6 Me l'avete chiesto In moltissimo Appunto Questa tipologia Di video Quindi direi che Per oggi Può anche bastare Ma ci vediamo Un po' Faccia a faccia Quindi torniamo Alla nostra Postazione Solita Quindi ragazzi Io direi che per oggi Potrebbe anche bastare Come a solito Lasciate un bel pollice In su A commentare Iscrivete al canale Se non l'avete fatto Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa ne pensate Di questa tipologia Di video Se scaricate l'applicazione Ovviamente Ditemelo anche Qui sotto nei commenti Che diamo un po' Di discorsi Fatemi sapere Un po' I vostri pareri Noi ci vediamo Prostamente Con nuovi video Super super Interessanti E nulla Ovviamente vi ricordo Che per quanto riguarda L'applicazione Trovate sempre tutto In descrizione E la luce Mi sta abbandonando Piano piano Ma comunque Iscrivete al canale Se non avete fatto Scelta per il pollice Tutto Contividete Fate tutto quello Che dovete fare Un bacio Un abbraccio Da giù è tutto E ciao a tutti